insomma bimbi rieccoci stasera serata frutta stasera siamo proprio alla frutta si è portato tre banane una mela un arancio poi dice Paola c'erano anche due arbiocchine di vele piccine che però si sono spiacciate nella busta e quindi niente spalmate proprio non ci sa nemmeno l'acqua quindi né il freschello stasera proprio niente la frutta contiene già acqua scusate la frutta è l'anagramma di acqua quindi alla fine frutta è l'anagramma di acqua? che cazzo stavo a scomporre tutto il tutto in un'altra lingua non lo sapevi? no dimmi illustraci insuairis frutta vuol dire acqua insuairis si stai zanzare Dio Cristo sono già in ciabattele bene bene da stamattina proprio mi sono alzato stamattina ho detto devo ciabatta? sì alto là al sudore proprio ho detto basta proprio siccome in questi giorni lì ci avevo piedi sapevano di di zibetto proprio di bod proprio faceva zibetto bagnato faceva anche a in più c'era anche proprio l'odore l'odoraccio sai proprio sì che mi si dice traspariva trasudava trasudava vedi Paola sa tutte le lingue quindi da sposare qui c'è il link con link con il numero di telefono di Paola sotto in descrizione sì è una breve presentazione una breve presentazione come quando mandi powerpoint no powerpoint corredata di immagini certo immagini in movimento delle piccole e brevi gif animate in pratica sì il numero è sempre distrutto